Cosa intende per scrittura? Scrittura, lo intendo, un sacco di cose in realtà. Tempo libero, tempo tra una coltivazione dell'orto e l'altra, tempo di creazione, immagino un po' di essere Dio, ma non sono, ma tra questa cosa mi diverto lo stesso, è un modo per conoscere me stesso, è stato un percorso di scavare dentro di me. E qui siamo in pieno ambito di autobiografia. Di autobiografia, completamente, perché credo che poche cose, come mettere su carta le parole, ti dicono come gira i neuroni nel cervello. Ci sono, vengono fuori le cose che pensi di non avere, che invece ci sono, e poi non è che resti stupito, no? Ti, come dire, funziona da catalizzatore, non si può mettere in moto altro, altri movimenti, altre storie, no? È una sorta di diramazione floreale, però positiva, e poi alla fine, come dico sempre, costa meno il terapeuta. Scrivere è un investimento, non fa laurea di terapeuti, ma ahimè. Va bene, grazie infinite. Grazie. Grazie.